Formula 1. Verstappen domina le qualifiche in Gran Bretagna, seguito da sorprendenti McLaren. Nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, il campione del mondo Max Verstappen ha stupito tutti conquistando la pole position e stabilendo un nuovo record della pista a Silverstone. Ma non sono solo le prestazioni di Verstappen a far parlare. Le sorprendenti McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri si sono piazzate al secondo e al terzo posto, beneficiando di un nuovo pacchetto aerodinamico. Questo riassunto vi terrà aggiornati sulle ultime novità e vi invita a commentare, condividere il video e iscrivervi al nostro canale YouTube. Max Verstappen continua a stupire nel campionato di Formula 1, firmando la sua settima pole position consecutiva nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota olandese, alla guida della Red Bull, ha dominato l'ultima sessione di qualifiche su una pista che si è andata asciugando progressivamente. Verstappen ha stabilito un nuovo record della pista con un tempo di 1 minuto 26 secondi e 770 millesimi, superando il precedente primato di Lewis Hamilton, che resisteva dal 2020. Nonostante la prestazione straordinaria di Verstappen, il suo successo è stato oscurato da un sospetto sorpasso sotto bandiera gialla nei confronti di George Russell della Mercedes. Tuttavia, la Red Bull ha spiegato che il sorpasso è stato effettuato prima dell'arrivo al segnale di pericolo, rendendo l'azione regolare. Quindi l'olandese non dovrebbe essere penalizzato per questa situazione controversa. Le McLaren hanno ottenuto risultati eccezionali nelle qualifiche, dimostrando l'efficacia dei loro aggiornamenti aerodinamici sulla McLaren. Lando Norris si è piazzato al secondo posto, a soli 241 millesimi dalla pole position, mostrando la sua classe cristallina. Il giovane rookie australiano Oscar Piastri si è classificato terzo, a soli un decimo dal compagno di squadra, nonostante non disponesse del nuovo pacchetto aerodinamico. La squadra di Woking, grazie al lavoro accurato del team principal Andrea Stella, ha dimostrato un notevole miglioramento e ora si trova nelle posizioni di vertice in casa. Le Ferrari si sono piazzate al quarto e al quinto posto con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz. Nonostante un piccolo errore nell'ultimo settore Leclerc sembra aver superato le difficoltà legate alle condizioni di pista umida. Le due monoposto rosse hanno ottimizzato il loro potenziale, ma devono prestare attenzione alle minacce rappresentate dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, che si sono classificate seste e settime rispettivamente. La lotta per le posizioni di vertice si preannuncia a vincente, con la Mercedes che sembra avere un passo di gara minaccioso. Hamilton è stato infastidito dal comportamento di Verstappen durante il giro di riscaldamento, mentre Russell ha dimostrato un potenziale più consistente rispetto alle Ferrari. Nel frattempo Fernando Alonso con l'Aston Martin ha avuto una prestazione poco brillante, mentre Alexander Albon con la Williams ha fatto vedere buone cose. La sessione di qualifiche è stata caratterizzata anche da alcuni incidenti e penalizzazioni. Infine, è importante ricordare ai nostri spettatori di commentare e condividere il video, nonché di iscriversi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e discussioni riguardanti il mondo della Formula 1. Vi aspettiamo numerosi!